la chat di whatsapp come elemento probatorio che ha servito di fatto ad alleggerire la posizione di due dei cinque ragazzi accusati per lo stupro di una 17enne casalasca consumato nel 2021 a suzzara mentre la stessa chat scaggionerebbe completamente un altro dei cinque che pure rappresenta sul posto limitandoci per così dire a guardare ma senza fermare i suoi amici sono queste le novità emerse dal dibattimento in tribunale a mantova che si è tenuto lunedì pomeriggio la vicenda risale alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2021 una ragazza di 17 anni residente nel casalasco dopo avere trascorso la giornata con un conoscente è stata invitata dallo stesso a una festa privata che doveva tenersi in un'abitazione di suzzara nel mantovano nulla di vero quella era soltanto una scusante per poter attirare la ragazza in una trappola ed è proprio in quella abitazione che si è consumata la violenza sessuale in particolare due ragazze hanno partecipato per così dire attivamente allo stupro altri due non sarebbero riusciti a spingersi fino in fondo nel proprio intento e un quinto avrebbe fatto da spettatore come detto tutto questo emerge dalla chat dei ragazzi che scherzano sulla vicenda tra di loro su whatsapp dimostrando di non avere minimamente compreso la gravità dell'atto compiuto c'è chi sostiene di aver messo incinta la giovane chi invece viene deriso perché ha fatto cilecca messaggi di questo tenore insomma lui invece guardava e basta e si è salvato si legge in un altro messaggio quello che ha scagionato il quinto ragazzo l'indagine era partita nel giugno 2021 quando la 17enne al pronto soccorso di cremona si era recata con la madre lamentando dolori al ventre a 15 giorni dall'episodio a quel punto la giovane aveva trovato la forza di spiegare quanto accaduto e di rivivere il suo incubo alessia soldani e pasqualino miraglia avvocati difensori dei cinque giovani che erano stati incastrati da alcune intercettazioni pochi giorni dopo la partenza delle indagini puntano sul consenso della giovane al rapporto sessuale oltre che su una spiccata difficoltà parole loro della stessa a ricordare i fatti alla luce di quanto emerso nell'incidente probatorio la prossima udienza si terrà a febbraio